Siamo con Sergio Anesi per il nostro consueto aggiornamento periodico, allora questo statuto è stato approvato? Allora lo statuto è stato approvato con la giunta nazionale del 26 marzo, in realtà deve ancora arrivarmi ad oggi la delibera della giunta nazionale del CONI, comunque la prossima settimana, martedì esattamente, io sarò a Roma dove definirò tutti i particolari sia per quanto riguarda le modifiche che la giunta ha ritenuto di apportare allo statuto, sia per quanto riguarda i prossimi passi che ci vedranno arrivare gradualmente alle elezioni. Ecco, ho parlato di elezioni, possiamo ipotizzare una data? Ma tendenzialmente, come avevo detto, avevo l'intenzione di riuscire a portare a giugno le elezioni, però mi pare che non ci siamo con i tempi, se mi ritardano ancora un po' la consegna dell'approvazione dello statuto in via definitiva e quindi la relativa documentazione dovrò spostarmi a settembre, comunque in ogni caso o a inizio d'istante o fino d'istante verrà fatta l'assemblea straordinaria per creare il gruppo che possa continuare per questo anno e mezzo fino alle prossime elezioni del prossimo quadriennio. Nel frattempo prosegue l'attività ordinaria federale? Sì, mi pare che fortunatamente anche grazie all'impegno un po' e mi pare da parte di tutte le società e i comitati l'attività ordinaria è proseguita nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, sia per quanto riguarda la promozione che anche e soprattutto per quanto riguarda l'agonismo. E quindi da questo punto di vista credo che la FISO abbia saputo rispondere anche in questo momento di parziale difficoltà a quelle che sono le esigenze del movimento e la necessità di continuare nel migliore dei modi i diversi percorsi che erano stati intrapresi. Sicuramente adesso avremo delle nuove competizioni e delle nuove sfide che ci porteranno a superare l'estate e quindi ad avviarci. Io mi auguro nel migliore dei modi, anche con la collaborazione che ritengo estremamente opportuna e necessaria dei diversi comitati e delle delegazioni a un'assemblea che sia un'assemblea di aggregazione e non un'assemblea che possa ulteriormente dividere. Io sono abbastanza fiducioso in questo e tra l'altro mi sono detto disponibile ad accompagnare per un periodo quello che sarà il nuovo Consiglio, il nuovo Presidente, proprio per aiutare questo mondo a trovare le migliori soluzioni per arrivare a quella che può definirsi la normalità in tutte le federazioni, quindi con gli organi costituiti e con l'attività sia sul campo che nella programmazione a posto.